facciamo noi la clip, ora ci organizziamo come volete si ma in caso voi te lo invivi vabbè se volete prendiamo il video da voi se mi va bene, se no niente come volete, come volete per noi uguali no devi scegliere te perchè sei tu che lo fai sei te il proprietario del video allora saliamo allora dai l'accesso a tutti tutti quindi volete l'invito a tutti quasi entro no così il garage non lo so di se aspetta mi fa entrare se non nel garage, non nell'ufficio e dove delle volte capita? no perchè dobbiamo aiutare il pallone di sicurezza vado al garage e poi entro dall'ascensore entro da solo a me fai conto che ieri non mi faceva entrare neanche dall'ascensore le tasse le ho pagate giuro ma anch'io le avevo pagate perchè poi io i soldi c'erano ok mi fa entrare ora ok mi fa entrare ora il a vabbè ora rientro rientra direttamente in sessione dovrebbe allora quello che volevo dirvi aspettiamo che arriva pure moira venite tutti quelli che è dell'altra crew io devo fare che tipo vi mettevate vi mettevate tutti qua tipo così eppure è vero aspetta che aspetta troppo bella questa vabbè dai non fai niente facciamo una cosa tu ti metti qua dove c'è sta pianta qua anzi non facciamo spazio a loro allora not si mette qua dove ci sta questa pianta aspetta che nome metto regà che nome metto ditemi veloce aspetta come si chiama la crew come si chiama la crew regà eh i tali marini allora se no facciamo una cosa viene no no quella nostra allora viene qua not ti metti qua guarda così non come si chiama la cazzata che è successo e ho cambiato il nome ok più bello allora quindi stavamo dicendo afro tu ti metti qua guarda dove è qua laterale proprio qua ma il mio ufficio quindi ok no qua no no qua questo afro sta qua mentre tutti qua al centro qua si metterà tipo il capo crew della dell'altra crew si metterà qua al centro mentre qua i suoi membri tipo qua laterali black tipo allora per esempio quanti sta a muoire qua al centro e black tipo si mette qua accanto ecco poi appena dico io faremo e fate saluto ma voi ma cliccando due volte o una ok saluto questo qua non quello che si muove tipo tutto strano tipo questo no no ma si è più bello dai ok allora io devo fare ora infatti dietro clip video ok io appena la la faccio quindi stf noi ci metteremo qua in fondo teoricamente che entriamo tutti così appena noi faremo il saluto loro fanno il saluto e cioè no loro fanno il saluto appena noi facciamo il saluto abbiamo fatto aspettiamo che arriva la aspetta 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 ripartiamo ora l'avvio appena ti dico via andiamo quindi no il saluto quello non quello lento quello veloce aspettate che la sto avviando perchè mi dici che collegato clip video mi dici stf dove devo andare ah ok aspetta e mi fa clip video istantaneo della schermata trasmetti gioco avvia share play ok vai fatto fatto andiamo 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 cammina cammina why vale andiamo 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 Ok possiamo andare ma io è dark? Venite venite ok ma ora quasi ci posso vedere solo vabbè dai niente fa e qua chi si mette avrò giusto se si metterla dai rimani in piedi dai facciamo così ok vabbè no oppure tu ti devi sedere ti ricco ok e direi che possiamo iniziare vabbè se ti riesco inizia tu con le domande vabbè ma voi siete quante fazioni siete per esempio terra marina aeronautica avete questa fazioni due membri tre sarebbero abbiamo tre abbiamo marina terra e aeronautica avete squadre speciali sì eh qua c'è qualcuno di terra della vostra crew io c'è black sei tu sì che veicoli usate beh vabbè essendo che non c'è nessuno presente nella marina eh riguarda invece la marina che veicoli usate principalmente tipo eh eh non sono io il capo della marina ahah vabbè sicuramente un dinghi eh vabbè vabbè grazie nooo nel senso tipo veicoli tipo blindati per esempio l'apc che può pure andare carabine speciale fucile pesante eh le domande riguarda l'arenautica di arenautica qua presente nessuno è una domanda trano i tre che ci siamo qua ah ma poi vabbè c'è nessuno quello brazzo quante persone c'è il mio nodo di arnautica? venticinque ma fa tre tre colori o del genere? certe volte sì e formazioni? però non c'è mmm non li facciamo mai evidentemente eh sì formazioni? sì ma fate voi pure un po' di domande mentre sì no io vorrei fare l'ultima domanda e poi vi passo a loro la parola ma diciamo voi siete una crew diciamo che volete fare war oppure tipo che vi dedicate più alla realtà o queste cose così tante war vabbè facciamo un po' di tutto facciamo anche tante war allenamento beh beh c'è un po' di tutto ok se volete fare qualche domanda io avrei una domanda io avrei una domanda io avrei una domanda eh per la squadra terra all'interno della squadra terra avete anche diciamo altre fazioni tipo artigliaia, fanteria questo non c'è il genere sì e di fanteria come siete messi? sì beh ah tipo fare le operazioni di terra mentre di artiglieria ci sei pure tu no io sto in primo filo ah quindi le artiglierie invece come siete messi? cioè che cosa per che cosa lo usate l'artiglieria? di solito contro i velicoli non contro l'afanterio nemico ma noi invece per artiglieri diciamo che usiamo i veicoli dell'artiglieria per diciamo il trasporto ci siamo perché prima era un'unica fazione quindi stiamo cercando ancora meglio ti ha fatto la domanda quanti siete in aeronautica? no una decina che veicoli usati in aeronautica? che veicoli usati in aeronautica? F16 cioè laser web moldoc per le frecce tricolori abbiamo VESDRA per addestramenti per stimolare gli MP della realtà ehm poi poi gli unici per per bombardamenti vediamo il cangiali soprattutto poi se dobbiamo usare il cangiali e insurgente pickup dovete qualche quattro volte a settimana noi non ci basiamo su war gli fare addestramenti ci siamo addestrati no vabbè ogni giorno no perché o certe volte non si presentano pure ancora magari li facciamo seriamente cioè se c'è una war che non capita questo tf io non saprei perché cioè non boh aspettate un secondo e se tf ecco oppure fare queste cose se capita una war la facciamo però non capita mai cioè non cerchiamo noi di fare sempre war noi di più cerchiamo sì cerchiamo sempre cioè cerchiamo una volta ogni tanto ma no noi proprio non cerchiamo se capita è una cosa ma di cercare per esempio l'altra volta c'erano stati dei bambini che volevano fare una war cioè noi mica l'abbiamo preso abbiamo fatto la war perché con dei bambini non è che ci mettiamo a fare war e cose poi ho visto un po' i vostri video ma cioè voi vi basate alle uccisioni cioè queste cose così fate vedere no guarda la crew che cerchiamo noi deve cioè non è che una che deve fare war ma vabbè facciamo tanto addestramento anche per quello che non facciamo mai sì cioè prima le facevamo quasi sempre ma ci stanno passando da voi vabbè vabbè mi dispiace dirvelo ma non è cioè l'accordo non può andare a buon fine grazie 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 Sì, è un po' più vero. inizia mi sto no fanno vedere le loro video delle buffanate ma che cosa secondo voi ci facciamo alleanza ma anzi c'è veramente ma già dall'inizio lo dovevamo capire ma io volevo aiutarti a vuole non puoi capire questi sono peggio di rcn stanno handicappati questi ma sono nati così hai presente hai presente aspetta aspetta un secondo un secondo sì glielo spieghi infatti tu io gli devo dire solo una cosa da otte alle 4 c'era diciamo ci doveva essere questa alleanza ma che cosa succede non solo si sono presentati a 20 poi era da sola che combatteva in una sessione pubblica contro un bambino che lo insultava no 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 vabbè c'è veramente nello no 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 ma manco l'impresa la mamma per percorso per ammazzato due che mi hanno ammazzato no li sto li sto ammazzando io regali sto ammazzando io stoffa lo stronzo ragazzi ho cominciato io vi giuro che sale con me dobbiamo eliminarli facciamoli mandiamoli pure alla sessione per un video no ma stai ancora da ammazzare sul bastardo bere che ammazziamo il senso eliminateli un po' molto rinforzato io black io un bambino anticappato la in classe in chiarico che ragiona di più ma stessi sono tutti finocchi secondo me ma da però ma non ci volevo partecipare da un po' divertente la vostra lista che mi stanno sui coglioni sinceramente che cazzo sto fa madonna fin con gli uniti io amo sarah black in chiamo ammazzato due volte sono a pari di sto mettoni si vede quando ho credo avessi un bastardo sta bene 50 npc davanti a me madonna mi stanno uccidendo metti l'imposizione difensiva io sto ancora registrando dietro qualche veicolo difeso meno male che io ero di aereo mi sto distruggendo tantissimo a piedi su di aereo l'ho fatto saltare con una mina l'ho fatto saltare mi vengo capo andiamo a prendere i laser noi siamo aeronautico ok sei invitato schiatta ma che barriera dobbiamo andare a attaccare fino aspetta il sacco nooo cioè se non io ho iniziato a sparargli sali in torretta immediatamente not eliminiamoli tutti i team dobbiamo ammazzare a questo pronto? fuoco fuoco qua davanti a noi dove è? davanti a noi chi spari con i nostri Sony davanti a noi quello è ma qua ma che minchia la hai in bot come l'ha ammazzato con un colpi mitraillettente? ma porca ma che testa di coniglio questo l'ha ammazzato? no questo finocchio oh guarda questo finocchio oh guarda questo finocchio oh signori che finocchio che finocchio guarda che lagone ma non li fai espellerle che lagone che lagone che lagone di merda guardalo è cresciato pure per i lag che scarsa madonna ma vero ora lo pubblicano allora rega aspettate facciamo una cosa mandiamoli via ehm votatori votate per espellerle black non abbandoniamo allora lo facciamo abbandonare oh mi sei mandato dal KD a black espellete espellete a black sei zitto però poi ci scrivono erano così scarsi che ci hanno espulso ma che scherzo te ne fotte è rimasto black e sto cazzo ma non dobbiamo ma noi non dobbiamo abbandonare solo lui è rimasto siamo scarsa dove stai dietro vieni 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 andiamo andiamo l'ho ammazzato con la minora ma tutti di inocchio sono i fratelli i il il dove cazzo sparando così io sto registrando comunque davanti a noi fa i banderi a appartamento come si godo abbandonato abbandonato come cazzo ci godo vabbè rega quindi che facciamo No, veramente non ha abbandonato L'abbiamo espulso L'abbiamo espulso, per forza Ma quello dice sto cazzo Ma che te ne fotte Dai, su E mo che facciamo Un'npizzita in vestito Tu padre su c'è il cazzo Il chinocchio Comunque scusate perché Sono stato io all'ammazzarli Veramente Li ho fatti uscire sul tetto Poi ho ammazzativo Black e Caroline insieme Quando l'altro l'avevo abbandonato Poi un altro è crashato E un altro è stato espulso Dai, su Fattimo tricolore Oh, dite la verità Se l'ufficio era vostro avreste fatto la stessa cosa Ma che so finotti questi, secondo me No, ma io devo Sì, però Ma l'ultimo sacripo ora la levo Ma è una griglia più seria Ma di me, di riceriti passati Ma di me, di riceriti passati Il nome è porco dio Corpo Quella bestemmiava, no? Che lui non ce ne ha fatto un cazzo Se una bestemmia Oh, che brava Anzi, io la devo sfottere Lo direi Oh, che sta bestemmiato Ma io so letteralmente il nome Che è una bestemmia Ma che potenza Sono letteralmente il nome Che è una bestemmia Mamma mamma Barapapara Io Rega Sono stato prima io Che ho sparato a Black e Carol Con un missile E sono morti E poi dopo loro Hanno cominciato ad ammazzare tutti E noi abbiamo sperato prima loro Ma ero solo io Non noi Io Io Appunto Perché sono che Appunto Perché sono ricchione Perché volevo che morivano Sti negri Ma stai zitto Ho fatto bene Ma che sono dei bimbi di merda Li abbiamo fatto il culo almeno Ma stai zitto Era meglio così facciamo il culo Era meglio così Dai 3 minuti 3 minuti 3 minuti di 1v1 Li abbiamo distrutti Dai stai zitto Dai stai zitto Dai stai zitto Dai stai zitto Sei gay 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 Frosia 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 Ricchina del cazza forco di merda Gay 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 Non si infatti Me lo metti proprio tu in richiamo Guarda Non lo metti proprio tu in richiamo Ma perché tu hai pure un rango leggermente alto Che cazzo vuol dire Che vuol dire che vuol dire che vuol dire un robocco vai 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 vado ai fatti da un minuto infatti se lo vacco